Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Travatar91 e, come lascia intendere l'inquadratura, nuovo video a tema horror. Oddio, in realtà il film in questione è un thriller, però essendo un thriller a fortissime tinte horror, direi che ci sta benissimo in questo tipo di video. Quindi, come leggete dal titolo, oggi non parliamo di un'uscita recente, ma di ormai quasi 50 anni fa, un cult assoluto del nostro cinema italiano, ovvero Profondo Rosso. Film del 1975, diretto da uno dei grandi maestri dell'oro all'italiana, ovvero Dario Argento, di cui ho già parlato altre volte sul canale, solo che in quel caso avevo sempre trattato film, diciamo, non totalmente riusciti, più che altro perché appartenevano al suo periodo più recente, quello creativamente più contestato, mettiamola così. Prima o poi avrei voluto parlare di qualche suo film del suo periodo d'oro e l'occasione si è presentata recentemente perché era stato annunciato a inizio luglio che sarebbe riamdato al cinema, io non ero riuscito a vederlo in quel momento. La settimana scorsa, rispetto a quando sto registrando il video, un mio amico mi chiama e mi dice Oh, notato che al cinema Mexico a Milano lo fanno fino al 30 e quindi io domenica 30 luglio ci siamo fiondati e lo siamo andati a vedere, anzi a rivedere, entrambi l'avevamo già visto ma vederlo al cinema, tra l'altro è stato restaurato in 4K, era un'occasione che potendo non mi sarei mai lasciato sfuggire. Quindi appunto l'ho colta e già che ci siamo approfittiamone appunto per fare il video. Ora, pur essendo un film appunto di quasi 50 anni fa e con uscitissimo, si tratta comunque di un giallo, il film ruota attorno alla risoluzione di un caso, magari qualcuno di voi non sa effettivamente chi sia il killer, quindi io divido in parte con e senza spoiler, se lo volete recuperare o controllato dovrebbe essere disponibile su Infinity. Io grossi problemi non ne ho perché ve l'ho mostrato in un video di collezione, ho qui il Blu-ray dell'Arrow Video edizione due dischi, un'edizione molto bella che però costa un bel po', dovrebbe essere uscito mi pare anche un Blu-ray normale, quindi al massimo una semplice amare qui in Italia, anche se non ispirata a questa edizione, quindi eventualmente ve lo recuperate così. È un film che andrebbe tenuto a prescindere in una collezione o un video per qualunque cinefilo, però nel frattempo appunto, se lo volete vedere in streaming, è su Infinity e appunto, riassumiamo brevemente la trama, il film segue le vicende del musicista Mark Daly che un giorno si ritrova per puro caso coinvolto in un caso di omicidio, semplicemente una donna che tra l'altro afferma di essere una sorta di sensitiva, viene uccisa da un killer misterioso di cui lei dice di aver captato i pensieri, e quindi il killer sostanzialmente l'ha uccisa per metterla a tacere prima che potesse rivelarne l'identità. Mark appunto assiste all'omicidio, lo vede mentre lui in strada, vede dalla finestra la vittima aggredita, va a soccorrerla e da quel momento in poi cercherà di capire chi è stato, anche perché ha paura che il killer a questo punto possa puntare su di lui essendosi ritrovato coinvolto, e il tutto proseguirà in una girandola di morti allucinanti e misteri vari, finché appunto alla fine non si scoprirà l'identità del misterioso killer. Il film uscì in Italia il 7 marzo del 1975, riscuotendo un grande successo, è tuttora uno dei film più amati di Dario Argento, tanto che ricordiamolo, a Roma esiste un negozio gestito da Luigi Cozzi, che è stato, che è un grande aspetto di cinema, è stato anche un regista, e quel negozio a tema soprattutto horror si chiama proprio Profondo Rosso Storo, ho anche avuto il piacere di andarci l'anno scorso, quando sono stato qualche giorno a Roma in vacanza, e il negozio ve lo consiglio, però comunque questo è per dirvi quanto questo film sia importante, lo stesso Dario Argento lo definisce uno dei suoi film preferiti, tra quelli appunto che lui stesso ha diretto. Il film ha nella filmografia del regista una doppia valenza, da un lato prende quello che c'era stato nei suoi precedenti film, ricordiamo, questo è il quinto film di Dario Argento, molti pensano al quarto, ma in realtà il quarto, di cui molti tendono a dimenticarsi, è il film Le Cinque Giornate, film che appunto racconta le storiche cinque giornate di Milano, evento avvenuto durante la ricerca dell'indipendenza italiana, e proprio essendo un film storico al di fuori dei canoni standard di Dario Argento, che di solito fa film thriller, horror, magari con qualche sfumatura fantasy, molti se lo dimenticano, io stesso non l'ho effettivamente ancora visto. Al di là di questo comunque ciò che ci interessa per quest'analisi sono gli altri tre film del regista, ovvero quelli che compongono la sua cosiddetta trilogia degli animali, quindi L'Ucciano delle Piume di Cristallo, Il Fin d'Esordio, Il Gatto a Nove Code, e infine Quattro Mosche di Velluto Grigio. Tra l'altro inizialmente il film avrebbe dovuto riprendere la scia dei titoli che hanno a che fare con animali, si dice che dovesse intitolarsi La Tigre dei Denti a Sciabola. Anche se non ho capito bene appunto perché l'hanno cambiato, se effettivamente è stato cambiato, se è una diceria così messa in giro, mi pare di aver letto a un certo punto, come l'ha detto l'amico con cui ho visto il film, che Dario Argento una volta ha detto sì no ma in realtà io sto titolo l'ho messo in giro così, giusto per perculare i giornalisti. Però comunque l'idea che dovesse essere appunto La Tigre dei Denti a Sciabola, ma non ci sono riferimenti alle tigre, che so uno scheletro in un museo, una statua, niente di niente. Il titolo finale rimanda ovviamente al rosso, sia per la grande quantità di sangue che c'è, ma anche perché ci sono vari elementi decorativi di questo colore. Comunque tornando a quello che stavo dicendo prima, il film prende appunto molti degli stilemi della filmografia di Argento che abbiamo visto appunto nella sua trilogia degli animali e li espande, li porta diciamo a livello successivo, a cominciare tra l'altro da queste teorie pseudoscientifiche, che appunto il film inizia con questa pseudo-veggente che dice io non sono sofrannaturale, è come se si parla di questa sorta di teoria di cui noi da bambini abbiamo la telepatia ma poi la perdiamo e ci sono pochissimi umani che riescono effettivamente a conservarla da adulti. Una roba che avevamo già visto nel Gatto a Nove Code, che credo che abbia uno degli spunti più scemi del mondo, ovvero esiste un gruppo cromosomico rarissimo chiamato XYZ e se tu ce l'hai probabilmente diventerai un serial killer. Teoria pseudoscientifica vagamente razzista, cioè ce l'aveva tutta quella teoria, ovviamente era solo un McGuffin, un per testo per far procedere alla trama, ma l'ho sempre trovata di una cretineria allucinante. Qui, per cari, qui a parlare o meno, c'è il paranormale che sono teorie già un po' più conosciute che nel loro essere appunto non scientifiche, almeno affondano un po' nei vari folclori dell'umanità. Oltre a questo abbiamo appunto l'idea del thriller a tinte horror, con gli altri tre film si tende a definirli soprattutto thriller, perché è qui veramente che Dario Argento butta di fuori il più possibile la sua vena creativa per fare gli omicidi, infatti la sceneggiatura è stata, diciamo, rimaneggiata più volte e a Dario Argento viene attribuita una certa effettiva della testa negli omicidi e un certo impianto fantastico fiabbeggiante che effettivamente ritroveremo molto nei film di Dario Argento. Non a caso nel suo prossimo film avremo, ovvero Suspiria, avremo una ragazza che si intrufola in una scuola, una specie di biancaneve che va nella casa e viene, diciamo, e finisce nelle spire, nelle ire di una strega. Poco favolistico mi dicono. Poi Fenomena, ole con questa ragazza che parla con gli animali, ah e voglia una specie di fata in quel caso. Qui ci sono effettivamente elementi fiabeschi, nonostante il film alla fine sia comunque un thriller ancorato col piedi per terra, l'elemento sovranaturale nei film di Argento arriverà appunto con Suspiria e soprattutto la cosa che troveremo sia nella filmografia precedente sia in quella successiva di Dario Argento il fatto che qui abbiamo a che fare con dei gialli ma che ne possa pensare lo stesso Dario Argento non sono gialli alla Agatha Christie, non è il giallo in cui alla fine c'è il detective che fa sedere tutti e spiega tutto si incastra perfettamente che è un tipo di film che mi piace anche per carità e lo dico sempre la cosa che più adoro di Knives Out per dire, citare il primo che mi viene in mente è sentire Benoit Blanc che risolve tutto l'intreccio nel finale del film Dario Argento come già aveva fatto penso soprattutto a L'uccello delle piume di cristallo ma anche appunto nei due lavori successivi punta tutto sul visivo il protagonista per risolvere questo caso dovrà scovare un indizio visivo un qualcosa che gli sfuggitori continuano a dire c'è un particolare che non mi torna e sarà solo quando questo particolare verrà risolto che effettivamente avremo la risposta e anche quando effettivamente ci vengono svelate certe cose, certe dinamiche non c'è quasi mai la spiegazione parlata viene tutto narrato tramite appositi flashback immagini Dario Argento che è una cosa che purtroppo si è persa molto in questo cinema contemporaneo molto spesso di Dascalico spesso di Dascalico ancora più spesso troppo di Dascalico ci ritroviamo appunto qui invece con un regista che vuole parlare esclusivamente per immagini non a caso si potrebbe dire che il vero protagonista ancora più appunto del nostro eroe sia in realtà la macchina da presa stessa e più in generale il concetto di occhio questo è un film tra le cui ispirazioni c'è chiaramente Psycho perché abbiamo spesso la soggettiva dell'assassino cosa che ricordiamolo c'è la lanciata Hitchcock nel panorama mainstream ma tipo era stata fatta ad esempio anche nel film dell'anno prima l'occhio che uccide che continuo a consigliarvi perché non è Psycho però è molto bello lo stesso quindi guardatevelo appunto qui Dario Argento continua questo discorso appunto dell'assassino spesso e volentieri vediamo le mani tramite appunto le soggettive dell'assassino ma oltre a questo è un film che lavora moltissimo con la macchina da presa che si insinua come un serpente all'interno dei vari paesaggi appunto per riuscire a accogliere certi dettagli e non a caso uno dei momenti anzi due perché alla fine sono due momenti del film molto famosi riguardano queste riprese di oggetti che poi si ricollegheranno anche andando avanti nel film e anche a un certo punto vediamo la ripresa dell'assassino che si tinge il contorno degli occhi di nero appunto lo sguardo in questo film è tutto non è un caso che il titolo riguardi appunto un colore e anche in generale la questione dei colori è molto forte in questo film perché oltre appunto al rosso del sangue abbiamo ad esempio spesso le tende dei teatri già interessante il fatto che l'inizio appunto si svolga con questa sensitiva che non sta parlando in una qualche università o cose del genere parla all'interno di un teatro ci sono le prove appunto del protagonista che avvengono in questi teatri sontuosi che sono appunto luoghi in cui si va a vedere tutto è uno spettacolo tutto viene messo in mostra e questo film appunto non vada tanto alla logica ma appunto allo spettacolo e tornando tra l'altro all'ambito dei colori qui ci sono i colori primari in particolare il rosso che spesso spiccano anche perché nella maggior parte dei casi tranne appunto con le tende rosso del teatro e qualche altro e qualche altra eccezione gli sfondi sono quasi sempre neri bianchi grigi e poi quando arriva il colore quello appunto spicca tantissimo ti spicca tantissimo davanti agli occhi dello spettatore nell'inquadratura e sempre correntemente con questo Dario Argento in questo film gioca con specchi anche qui il tema del doppio tanto caro a Hitchcock sul guardare dietro un muro su dettagli che tu guardi una foto un disegno e dici ma io questo l'ho già visto non ho notato questo dettaglio e tutta la questione proprio l'occhio è al centro di tutto e anche il paesaggio quello che ti sta intorno è al centro infatti un piccolo aneddoto per poi ricollegarci all'analisi io e il mio amico abbiamo trovato in sala durante il titolo di coda da un nostro professore dell'università e lui ha fatto notare come una delle ispirazioni oltre appunto a Psycho in generale Hitchcock è un'altra che però meglio si citano la parte spoiler è molto ispirato a questo film tra altre cose anche ad Antonioni non a caso tra l'altro David scusatemi Mark è interpretato da David Hemmings ovvero l'attore protagonista di Blow Up uno dei film più famosi di Michelangelo Antonioni che tra l'altro mi manca lo devo vedere Antonioni è un regista di cui devo ammettere ho visto poco ma da quel poco che ho visto si vede che Antonioni è un regista che tiene molto al paesaggio ed è quello che appunto fa qui Dario Argento certo Antonioni da quel poco che ho visto ti fa i campi lunghi o lunghissimi insomma ti inquadra proprio enormi paesaggi quindi questo invece è un film o urbano appunto ambientato in una città o appunto ambientato all'interno di edifici teatri ville fatiscenti le case dei vari personaggi è un film in cui le scenografie sono molto importanti ma in generale è un film in cui tutto l'impianto tecnico è importante perché è questo che ha fatto la grandezza di Dario Argento ai suoi tempi d'oro non la coerenza delle sceneggiature chi mi segue da più tempo me l'ha sentito dire spessissimo ragazzi non è che i film di Dario Argento sono peggiorati perché sono peggiorate le sceneggiature le sceneggiature di Dario Argento hanno sempre fatto cagare o comunque non dico magari non facevano schifo del tutto ma avevano dei grossi problemi che si notano soprattutto nei gialli dove in teoria tutto dovrebbe filare liscio perfettamente tutto si dovrebbe incastrare qui invece abbiamo cose che non tornano tipo quante volte il film pensando al film sempre parlando del prologo vedi appunto sto teatro in cui si svolge all'inizio vai nel bagno e c'è un bagno sporco lercio con uno specchio in cui tra l'altro ne vediamo la soggettiva dell'assassino però siccome la soggettiva dell'assassino se questo si guarda lo specchio capisci chi è e quindi lo specchio sporco lercio e vedi l'assassino che fissa sto specchio sporco e non lo pulisce e dici va bene diciamo pure che hanno avuto problemi con l'igiene del bagno ma perché non lo pulisci poi è un film in cui le porte vengono aperte come niente le scene del crimine vengono violate tranquillamente la polizia proprio non si cura di queste cose c'è Mark che dovrebbe essere a un certo punto preso in custodia interrogato gli lasciano fare quello che vogliono anche quando capiscono che è in pericolo veramente se stiamo lì ad analizzare la logicità delle cose non torna nulla tra l'altro un liet motive del film è come è possibile che il killer sia sempre un passo avanti a me sembra che sappia tutto quello che sto per fare e la soluzione dovrebbe farti capire allora è per questo però poi se ci pensi un attimo no ma anche così non potrebbe saperlo lo stesso come è possibile ma non importa è un film in cui appunto lo spettacolo è talmente forte che tutte le stupidaggini le ingenuità le forzature si difendono alla grande poi appunto pur essendo un film in cui non si incastrano bene le cose a livello di accadimenti è un film che appunto porta tante riflessioni appunto soprattutto sull'occhio ma parlando invece della trama stessa è anche un film che gioca molto scusate mi corrego è un film che nel suo piccolo è anche a suo modo progressista nel senso che ci sono un paio di cose che ti fanno dire ah per essere un film degli anni 70 che noi siamo abituati a vedere come film diciamo retrogradi rispetto ai giorni nostri ha un paio di cose per cui era piuttosto avanti in particolare c'è un momento in cui Mark sta parlando con la coprotagonista ovvero Gianna Brezzi interpretata dalla Nicolodi che cosa che segnerà tra l'altro il suo sodializio professionale e anche sentimentale con Dario Argento e a un certo punto c'è questo discorso in cui si parla appunto in cui lui fa un po' il maschilista retrogrado e lei diciamo lo rimette in riga ci sono un altro paio di tocchi soprattutto uno però non voglio dirlo perché appunto lo considero spoiler che ti fanno capire appunto come Dario Argento nel suo piccolo mette queste chicche e lì appunto sono i momenti in cui la sceneggiatura è scritta meglio perché riesce a mettere un messaggio senza farlo sembrare troppo pedante senza interrompere la narrazione ma comunque mettendolo sotto traccia a volte paradossalmente ti rimane di più parlando dell'impianto sonoro mi stavo dimenticando colonna sonora ormai famosissima eseguita dai Goblin che era questo quartetto di giovanissimi esponenti del progressive rock se non sbaglio e che è diventata talmente iconica che tipo la usano quelle poche volte che facendo Zapping ho visto il programma su Rai 1 affari tuoi quando devono aprire il pacco per capire se il concorrente ha vinto o meno scende sotto quindi è usato addirittura nei programmi televisivi ma oltre comunque a quella prima traccia che è meravigliosa e ti mette una suspense allucinante in generale anche il resto della colonna sonora è fantastico si pensi anche solo alla famosa l'anenia che tra l'altro anche questo ha un ruolo nella trama qui oltre che l'occhio si riflette anche sebbene mi suona minore sull'orecchio infatti ci sono dei momenti in cui l'audio diminuisce o si alza proprio per costruire un piccolo discorso sensoriale in base a dove si svolgono le inquadrature quindi insomma è un film veramente grandioso devo dire a rivederlo ho leggermente sentito la durata dura due ore e due e l'ho sentito verso la fine cioè quello che vedi è tutto bellissimo ma c'è soprattutto un momento in cui il protagonista va da una parte torna indietro poi ritorna e dici vabbè allora fai una scena unica ha senso anche sul discorso del non ho dotato il dettaglio che dicevo prima ma mi è sembrato appunto leggermente allungato non dico pesante non dico noioso ci mancherebbe tanto è un film appunto fantastico ma e perché più ma appunto ho notato questa cosa e la cosa strana è che se uno mi chiede ok ma tu cosa avresti tagliato ironicamente non so dirlo nemmeno io quindi mi trovo in questa dissonanza cognitiva in cui da un lato mi viene a dire potevano tagliare due cose quali? sicuramente non le scene di omicidio perché appunto pur essendo un thriller ho detto a tinte fortissimamente horror non a caso ho scelto questa inquadratura proprio perché le sequenze di omicidio sono dirette magistralmente le ci sono un po' di momenti appunto con inquadrature del coltello della mannaio dell'arma da taglio che viene vibrata velocemente similmente a psycho di Hitchcock solo che dove Hitchcock tramite un montaggio ben studiato non ti fa mai vedere il coltello che impatta il corpo delle vittime qui invece i corpi vengono colpiti distrutti il sangue scorre a fiotti tra gli effetti visivi cioè tra gli responsabili degli effetti visivi abbiamo Carlo Rambaldi che in quell'epoca era lanciatissimo e il tutto è meraviglioso soprattutto perché nonostante sia un film molto esplicito non è un film che indugia non è che coltello colpisce e vedi per 30 secondi che sembrano pochi 30 secondi ma in questo tipo di film sono tanti vedi 30 secondi di sangue che zampilla sangue che zampilla sono inquadrature anch'esse molto veloci riesci a vedere tutto quello che sta succedendo ma sostanzialmente vedi la ferita che si apre il sangue appena il tempo di fare e poi subito stacchi e vedi un'altra cosa quindi il tuo cervello non ha neanche il tempo di processare il sangue che ha appena visto perché sta vedendo qualcos'altro e quindi rimane ancora più spaventato poi sono anche molto molto creativi questi omicidi non ce n'è mai uno uguale all'altro c'è uno che addirittura prevede dell'acqua bollente che è una roba anche lì veramente terrificante a vedersi e quindi che dire tutto è fantastico appunto tutto è volto alla messa in scena il più efficace possibile famosissima una sequenza in cui c'è un burattino che questo pupazzo meccanico che guardate compare persino qui nella nella copertina del dvd e non ha senso ciccia fuori a caso non se ne parlerà mai più ma la scena in cui arriva è talmente spaventosa che dici ok va bene va bene tutto non è logico non me ne frega niente quindi veramente è un film in cui lo spettacolo della messa in scena come dicevo prima la fanno da padroni l'occhio viene stimolato in ogni modo possibile anche l'orecchio e nulla in quest'ottica appunto è un film un film fantastico come ho già detto volendo un po' dare giusto di un paio di piccole curiosità come spesso accadeva all'epoca il film non è stato girato in italiano ma in inglese poi è stato ridoppiato tranne c'è solo un personaggio che recita in italiano personaggio che appare anche tra l'altro abbastanza poco e interagisce sostanzialmente solo con Mark poi il personaggio della Nicolodi è molto ispirato per la missione della stessa Nicolodi ho guardato un'intervista che viene fatta qui in cui lei dice che lei prima era abituata a fare ruoli in cui era molto sexy mentre Dario Argento qui l'ha un po' mascolinizzata tra molte virgolette però comunque le ha tagliato un po' i capelli che nel film le arrivano qua le di solito riportava molto più lunghi le ha un po' scurito i capelli lei naturale sarebbe bionda qui invece è Bruno Rossiccia e appunto non indossa mai la gonna magari attillata non indossa la gonna in generale indossa sempre abiti da lavoro ha sempre i pantaloni quindi appunto che voi direte vabbè questo rende una donna troppo mascolina al giorno d'oggi magari no negli anni 70 effettivamente faceva faceva il suo senso e tra l'altro appunto sempre per la missione della Nicolodi il personaggio risente molto dell'esperienza che Dario Argento aveva fatto come giornalista prima appunto di diventare regista e tra l'altro tra lei e Mark si sviluppa una dinamica amorosa molto molto carica cioè comunque una dinamica di interazione che non sfocia mai realmente dell'amore ma viene lasciato intendere sebbene sebbene Dario Argento dica che nella sua idea il personaggio di lei potrebbe anche essere lesbica in sé non ci sarebbe niente di male però ce li vedo bene loro due come coppia quindi preferirei di no però comunque appunto c'è questa dinamica di amore o amicizia molto divertente e tra l'altro Nicolodi racconta che con lei Dario Argento era molto bravo paziente mentre invece con David Hemmings appunto scusatemi lo devo rileggere David Hemmings scusatemi con David Hemmings era molto più duro e tra l'altro questa cosa l'attore un pochino ci soffriva perché era appena uscito da un divorzio Nicolodi racconta che stava con un'altra persona ma si capiva che era giusto la classica storia che hai dopo una rottura per consolarti un po' e quindi povero David Hemmings che era lì tutto moggio perché Dario Argento non lo sapeva trattare comunque una cosa che molti fan di Dario Argento dicono è che se c'è una cosa in cui Dario Argento non ha mai brillato è stata la direzione degli attori e la Nicolodi lo ha confermato lei dice Dario Argento non è molto bravo a spiegare le cose agli attori basta l'ha detto lei ci ho pure recitato per Dario Argento boom abbiamo la prova definitiva che Dario Argento non è un grande direttore d'attore diciamo che quando gli davano quell'attore che era bravo riusciva a reggere bene o male ci si intendeva poi andando avanti andando avanti con l'età e tutto anche questa cosa è via venuta meno e quindi anche la recitazione ne ha risentito soprattutto considerando che ha fatto recitare la figlia che non la conosco probabilmente Asia Argento è una persona buona e cara ma come attrice non è che abbia mai funzionato granché ma a parte questo che dire la parte spoiler la chiudo qui saluto chi ancora ha visto il film non azzardatevi a vedere il resto del video senza aver recuperato il film o su Infinity o perché no se lo trovate in un video a sto punto sui siti visto che ormai nei negozi fisici è un video no cazzo li trovi comunque recuperate il film assolutamente perché non può mancare almeno una visione per chiunque voglia approfondire il cinema in generale l'ha visto più volte tra l'altro erano anni e anni che non lo vedevo ed è stato molto bello riuscire finalmente a rivederselo tutto intero appunto ora chiudo qui la parte senza spoiler se ancora non avete visto il film io vi saluto ci rivedremo a quando l'avrete visto mentre invece per chi l'ha già visto o mannaggia a lui in questo caso se ne frega degli spoiler 5 4 3 2 1 spoiler allora partiamo da quello che dicevo sul progressismo del film oltre al fatto appunto che c'è il momento in cui Mark discute col personaggio della Nicolodi dicendo no le donne sono più deboli degli uomini lei stizzita lo sfida a braccio di ferro e lo batte per ben due volte c'è anche il fatto che a un certo punto Mark scopre che il suo caro amico Carlo è omosessuale tra l'altro a interpretare il compagno l'amante di Carlo era in realtà una donna che semplicemente avevano truccato per sembrare un uomo in questo caso riescono appunto a far sembrare questo uomo esistevano già i transgender all'epoca era solo un travestito comunque insomma questo uomo effemminato che appunto in realtà è una donna mascolinizzata hanno fatto questo rapporto speculare tra realtà e finzione comunque appunto lui dice eh sì caro Mark il tuo amico Carlo ha gusti strani e lui e a me che me ne frega dei tuoi gusti sono qui per bla 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 ed effettivamente già qui il fatto che lui dica a me il fatto che tu sia omosessuale non frega niente è già interessante e poi su questa cosa ci torneremo poi appunto Carlo ha questa madre che dice di essere stata un'attrice vediamo anche delle foto questo non è una non è casuale in quanto a interpretare la madre di Carlo è l'attrice Maca Merrill spero di averlo pronunciato bene che tra l'altro è l'unica attrice che parla in italiano nel film fin dall'inizio che appunto non è stata doppiata come dicevo nella parte senza spoiler quelle che noi vediamo sono semplicemente foto dei suoi effettivi film in una se non sbaglio si vedeva anche Vittorio De Sica e questo ovviamente non può che far pensare considerando poi che l'assassino è lei l'idea di un'attrice che sclera e ammazza non può non far pensare il capolavoro di Billy Wilder che tra l'altro anche il suo film che preferisco Viare del tramonto che prima o poi dovrò assolutamente portare sul canale perché è un film meraviglioso a un certo punto sembra che sia Carlo l'assassino cosa che io fin dall'inizio quando vedi la prima volta pensai ma una cagata non torna perché Carlo era giù quando non ho sentito urlare la sensitiva che stava venendo uccisa non può essere lui e infatti poi alla fine ci sarà Mark che gli fa aspetta ma non può essere Carlo lui era con me si vedono proprio anche le immagini che avevamo già visto proprio per ricordarcelo nel caso qualcuno se lo fosse scordato e infatti poi si scopre appunto che è sua madre ora pensateci la cosa che dicevo prima Carlo è omosessuale quando lo dichiara è ubriaco e tu pensi ah quindi Carlo è ubriaco e sconvolto perché è omosessuale in un mondo che lo rifiuta e quindi alcolizzato per quello questa è la prima chiave che hai quando afferma di essere omosessuale poi scopri che è l'assassino e pensi ah ok vivendo male la propria sessualità è impazzito e invece no il motivo per cui Carlo è pazzo non ha niente a che fare anzi è traumatizzato non ha niente a che fare con la sua omosessualità anzi Carlo in sé sarebbe stato normalissimo se non fosse che è sua madre la pazza che ha ucciso suo padre davanti ai suoi occhi e da quel momento lui è stato traumatizzato ma comunque per affetto verso sua madre l'ha sempre ha sempre coperto i suoi delitti e quindi già qui c'è un ribaltamento non è il diverso l'assassino ma in realtà la dolce vecchina in cui tra l'altro c'è una delle scene comiche del film che continua a dire che Mark dice ma lei è ingegnere? no sono un pianista ah un ingegnere pianista non è una cosa che si vede tutti i giorni quella scena mi ha fatto morire comunque appunto è la mamma no? con lei che normalmente dovrebbe essere la fonte con lei che ti protegge in realtà qui è ciò che ti ha traumatizzato tutti quanti tra l'altro qui si vede anche la parte diciamo favolistica anzi fiabesca di Dario Argento perché però appunto nelle fiabe c'è sempre l'idea della madre della matrigna della suocera insomma di una figura materna che cerca di prevaricare i figli i figliastri o quello che è insomma le figure a cui dovrebbe badare e quindi appunto li tratta male li traumatizza eccetera eccetera ma a parte questo comunque il male lì non è appunto nel deviato per come lo intendono molti mi dissocio da questa cosa però comunque è nella nella famiglia tradizionale no? in padre madre figlio tra l'altro a Natale quindi la festa dei buoni sentimenti e tutto in questo quadro apparentemente idilliaco che invece si consuma la tragedia che poi appunto porterà tutta la spirale successiva di omicidi e qui sta il progressismo no? tu pensi ah è perché omosessuale invece no l'omosessualità qui non c'entra niente con i problemi di Carlo ma è sua madre è il lato più tradizionale appunto e tra l'altro ci si continua a rivolgere all'assassino prima di sapere chi ha il maschile e da un lato dici beh è maschile neutro tu stesso Travatar l'hai fatto per tutta la durata della parte senza spoiler vero ma se sentite bene i dialoghi in più di un'occasione si dice deve essere ogni tanto dicono persone ma soprattutto deve essere un uomo quando lui vede lei allontanarsi con l'impermiabile dice ho visto un uomo allontanarsi con l'impermiabile lui pensa in automatico che sia un uomo viene appunto si lascia intendere che appunto una donna non dovrebbe avere la forza fisica per fare quello che fa e Mark appunto l'aveva detto alla Nicolodi eh ma le donne sono meno forti degli uomini e a quanto pare questa qui minchia riesce a prendere a mannaie la sensitiva butta la tizia affogandola nell'acqua calda tra l'altro una scena veramente ansiogena e disturbante con questa qui che viene presa tirata su e comincia ad arrossarsi il volto si vedono le bolle di quando ci si ustiona veramente una scena macabra e terrificante come è giusto che sia tra l'altro qui l'assassino è veramente un ninja si infila dovunque appunto la logica qui non c'è ma la costruzione delle immagini delle sequenze è talmente bella che chi se ne frega di tutto poi piglia lì l'assistente del compagno da cui si lascia intendere della sensitiva lo piglia lo sbatacchia contro uno spigolo distruggendo gli denti e poi gli ficca il fermacarte nel collo veramente gli omicidi sono di una violenza e di una coreografia meravigliosi ma l'avevo detto appunto nella parte senza spoiler quindi anche qui no si esalta la forza femminile sebbene qui in veste negativa visto che appunto il killer è una donna Argento ha messo altre volte un killer femminile in particolare si pensi alla trilogia delle amadri in cui appunto le cattive sono tre streghe che per carità appunto questo è anche un qualcosa tipico delle fiabe però comunque vediamo una donna che dovrebbe essere il sesso debole che invece qui è una minaccia che non si riesce a fermare o comunque nel caso di profondo rosso che viene fermata a fatica tra l'altro poi in suspira del regento introdurrà una protagonista femminile poi la rivedremo anche ad esempio in fenomena quindi appunto poi Argento porterà anche donne positive insomma porterà donne forti anche dalla barricata positiva del tutto per carità anche il personaggio della Nicolodi è bella tosta quando alla fine sembrava che stesse per morire ero lì che pensavo no per favore no non uccidetela alla fine fortunatamente viene detto che sopravvivrà tra l'altro bellissima tutta la gagga lì nell'auto col sedile del passeggero che si incrina e c'è e c'è Marco lì che tipo oh non vedo un cazzo qui mi ha fatto morire loro che tra l'altro devono uscire sempre dal tetto perché se metti la sicura poi quella non si apre quindi cioè ci sono i momenti divertenti qui devono uscire dal tettuccio quindi la dinamica tra i due ripeto è piaciuta e nel mio è The Canon dopo che lei si è ripresa hanno cuccato felicemente e tuttora vivono la loro meravigliosa storia oddio entrambi gli attori mi pare che siamo deceduti quindi vabbè insomma adesso sono insieme nel regno dei cieli poi appunto la questione dell'occhio tutto il film si basa appunto su dettagli che l'occhio non nota infatti spesso Mark dice ma sono un cretino come ho fatto a non notarlo quando va a investigare nella casa nella villa che si pensa sia abitata da fantasmi in realtà poi si scopre che dove abitavano Carlo e il suo genitore dove si è consumato il delitto a un certo punto lui non nota subito che manca una finestra se ne accorge torna lì e appunto vede che c'è una stanza che è stata murata in cui appunto si trova il corpo mummificato del padre di Carlo e piccola parentesi quando dicevo che le cose non tornano il fatto che l'assassino sia apparentemente Carlo ma poi in realtà è la madre di Carlo insomma comunque qualcuno collegato a Carlo dici ah ecco come l'assassino sapeva tutto era Carlo a passargli le informazioni ma Marco non ha mai detto un urla a Carlo delle sue indagini quindi Carlo non poteva saperlo non torna un cazzo a prescindere comunque parla appunto dell'indagine con l'occhio cioè questa cosa all'inizio non si accorge di aver saltato appunto la questione della finestra poi c'è la questione del disegno ovvero il disegno fatto da Carlo in cui sembra che lui abbia in mano il coltello insanguinato che ha ammazzato il padre c'è la madre che urla e quindi sembra che sia stato Carlo a uccidere il padre in realtà poi scopriremo che no è stata la madre semplicemente Carlo ha raccolto il coltello e il trauma gli ha fatto fare quel disegno lì disegno di cui tra l'altro lui vede una copia fatta da questa ragazzina che ha questo padre che la maltratta e lei comunque che lei è un po' suonata perché si vede che punzecchia con degli spili degli animali e qui c'è un tema molto caro ad Aero Argento ovvero della famiglia come fonte del male in un'intervista sempre che ho visto qua in questi contenuti speciali lui dice per me la famiglia soprattutto in quel periodo era l'origine di tutti i mali se tu hai una malattia mentale per la mia concezione era appunto a causa della tua famiglia io infatti non ho mai non ho avuto un rapporto idilliaco con i miei familiari infatti dall'Aero Argento viene anche descritto come una persona molto schiva e solitare nel privato proprio probabilmente anche a causa di questi trascorsi familiari e tra l'altro parlando appunto della questione della famiglia come male appunto la madre pazza il figlio traumatizzato eccetera c'è appunto questo padre che tratta male la figlia che è un po' sclerata pure lei e lo stesso Mark a un certo punto dice che lui suona il piano perché odiava suo padre e quando colpisce i tasti che sono queste specie di denti allungati gli sembra di di prendere a pugni i denti del padre lui poi dice no scherzo solo perché mi piace la musica però il fatto che comunque come battuta venga detto ah sono musicista perché odio mio padre è proprio un modo per insinuarti questi appunto di famiglia come non come luogo accogliente ma come luogo di di pazzia e non a caso se notiamo i rapporti interpersonali qui sono appunto l'amicizia con Carlo che però viene rotta appunto dall'istinto di protezione verso la madre questo rapporto appunto di amicizia o amore tra la Nicolodi e Mark il fatto che appunto la che però comunque non sfocia mai in una relazione canonica diciamo così la sensitiva che appunto è mantenuta da questo suo compagno che è affascinato dalle sue teorie non si capisce se stavano insieme o meno diciamo che la prende non la prende bene ma relativamente bene se fossero stati a qualcosa di più quindi probabilmente appunto erano semplicemente due persone che si volevano bene ma non in senso romantico cosa che solitamente appunto nel film no uomo donna finiscono sempre per stare insieme non a caso è appunto ship i due protagonisti quindi appunto c'è tutta questa idea di le relazioni più classiche viste come negative le relazioni che escono appunto dal canone viste come più positivo comunque di cui non bisogna vergognarsi anche la cosa di Carlo che è omosessuale e a Mark non frega nulla poi parlando di cose che non hanno molto senso c'è la madre quella che poi scopriremo essere la madre di Carlo che entra in casa di Mark lui riesce a chiudere la porta e dice ti ucciderò la prossima volta con la voce camuffata in maniera tale che non capisci che è lui che è lei ma la cosa assurda è che ti verrà dire ma basta desisti così cioè sei in grado di sfondare i denti della gente non riesci ad aprire una porta suona veramente strano è tutto accanto semplicemente per fare questa scena che è molto inquietante piena di suspense quindi va benissimo così poi appunto la polizia non fa quasi niente c'è il commissario che semplicemente un paio di volte ciccia fuori e dice non ostacolare le indagini fa tutto lui praticamente sempre parlando della questione dell'importanza dell'occhio c'è la quella che viene uccisa appunto nella propria casa con l'acqua bollente che sfrutta il vapore per scrivere qualcosa sui muri il tizio amico flash amante della sensitiva se ne accorge sta per svelare tutto ma appunto viene ammazzato lui stesso anche lì ma come faceva la killer a saperlo non si sa va benissimo così insomma ripeto logicità ma funziona e infine la cosa più importante dell'occhio è la cosa che lui dice ma c'era un quadro che mi sembra sia stato rimosso e Carlo dice deve essere un dettaglio importante a piccola parentesi fantastico la scena in cui sempre parlando di mancanza di logicità si sente l'urlo della sensitiva che viene uccisa o non c'è una luce che si accende nessuno che accorre nessuno che chiama la polizia soltanto Mark se ne accorge tra l'altro l'avete da lontanissimo come cacchio fa è tutto il tempo di salire correre aprire la porta contaminare malissimo la scena del crimine dovevano tipo arrestarlo solo per quello però appunto illogicità ma il tutto direi totalmente bene che chi se ne frega poi appunto arriva verso questo corridoio vedi un quadro pieno di volti e dice perché quel quadro è stato rimosso e alla fine la scoperta non era un quadro era uno specchio specchio che rifletteva un effettivo quadro pieno di volti ma lì c'era anche l'assassino lui ha visto il volto della madre di Carlo e se tu guardi è vero quando percorri il corridoio se guardi nel punto giusto la vedi ma nessuno e lo sfido chiunque adesso se ne accorta la prima visione senza essere stato precedentemente informato perché comunque l'utilizzo della prospettiva è perfetto tu sei puntato a guardare il centro dell'inquadratura non a guardare a sinistra dello schermo e quindi non te ne accorgi se non appunto la seconda visione l'occhio fa devo guardare lì ed effettivamente questa è una delle cose che effettivamente torna e quindi appunto l'occhio che viene non viene neanche ingannato semplicemente non è l'occhio il problema è il tuo cervello che non processa quello che dovrebbe processare correttamente e quindi ragazzi che dire è fantastico appunto del reggento questa cosa l'aveva già fatta e la userà di nuovo questo metodo ma è comunque questo è forse il film in cui l'ha utilizzato meglio e appunto è meraviglioso e poi vabbè c'è il finale in cui la catenina si impiglia a questo ascensore che viene attirato e praticamente la collana viene trascinata giù e decapita malissimo la madre di Carlo e l'ultima inquadratura c'è questo fermo immagine che durerà per tutti i titoli di coda è appunto Carlo che fissa la pozza insanguinata questo profondo rosso che è del titolo del film e che tra l'altro è anche una delle locandine più famosa del film stesso e anche qui una dinamica quasi alla paperissima questa che inciampa si incastra lì il gioiello e tutto ma chi se ne frega è diretto ripeto talmente bene talmente ricca di suspense la sequenza e tutto quanto che non riesci a non amarlo quindi profondo rosso è un grandissimo thriller e anche un grandissimo horror visto che è metà e metà poi Dario Argento sfocerà totalmente nell'horror con i film successivi anche quelli con un ambito con un impianto thriller tipo tenebra avranno comunque la componente horror iper esagerata quindi da questo punto Dario Argento diventa ufficialmente un regista horror e niente è comunque un film meraviglioso che si difende ancora bene pur avendo quasi una cinquantina d'anni e non posso ovviamente che di nuovo consigliarlo sperando che nessuno sia stato così pazzo da farsi spoilerare qui il finale e detto questo direi che il video può finire qui ah tremenda la mostra di Carlo trascinato da sto camion e poi con la testa spiaccicata a parte questo appunto il video finisce davvero qui grazie per averlo seguito come sempre se vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi condividete commentate e ci vedremo a un prossimo video ciao ciao ragazzi ciao a tutti